Antonio Di Ricco, domani 16.30 a Campoacli, un pallone per amico, quinto memorial a Flavio Bruni, ci siamo. Sì, anche quest'anno diciamo che tutte le istituzioni ci hanno aiutato, sia il CONI, sia la Regione, sia la Provincia, il Comune di Campobasso ci hanno dato una mano per l'organizzazione di questo evento. Siamo al nono anno consecutivo che lo organizziamo e siamo al quinto memorial a Flavio Bruni. Ecco, l'incasso sarà devoluto completamente alla Mater Orfanorum, mi fa piacere che diciamo che più o meno tutti quelli dell'anno scorso hanno voluto ripartecipare con grande entusiasmo a questa manifestazione. Io ringrazio anche Tere Molise che come sempre ci dà il suo contributo e sono felice di questo, sono felice che ormai è una tradizione e sono contento veramente che continuano ad andare sempre così bene, ecco, ad essere entusiasmante per tutta la città, diciamo. Quattro scadre in campo, come hai detto tu, comunque per beneficenza, perché sport e beneficenza comunque sono sempre un binomio vincente. Sì, assolutamente sì, soprattutto il calcio secondo me è lo sport nazional popolare che fa in modo che, diciamo, si raccolgono delle somme di denaro che non possono essere in questo periodo di crisi elevatissime ma che comunque danno un piccolo apporto a queste istituzioni in difficoltà. Ora la Mater Orfanorum già 6-7 anni fa gli donammo una somma, sono contento che in questo caso riusciremo a donarne un'altra e credo anche più importante rispetto a quella scorsa. Ecco.